Buonasera, ci sono domande, prego qui davanti. Ciao Simone, complimenti. Avevi chiesto testa e cuore, avevi qualche dubbio sulla testa, avevi detto, ma la squadra ha risposto soprattutto con la testa in maniera ottimale. Adesso che testa serve per arrivare alla partita di ritorno senza darla già per vinta? Beh, chiaramente sono molto soddisfatto della gara che hanno fatto i ragazzi, ci godiamo la serata, ma sappiamo che abbiamo fatto il primo passo verso la semifinale, avremo una partita di ritorno impegnativa contro una squadra fortissima che in Champions non aveva mai perso, aveva incontrato squadre di assoluto valore, Paris Saint-Germain dalla Juventus, però la squadra è stata brava, ha meritato questa vittoria e adesso prima abbiamo una partita importante di campionato e poi ci sarà ritorno davanti ai nostri tifosi sapendo che abbiamo un vantaggio ma nulla è chiuso. Buonasera, Paola Amore. Complimenti per la vittoria innanzitutto. Le chiedo se si aspettava un Benfica così remissivo. Nella prima parte forse è stato un pochino grigio il gioco per entrambe le squadre, poi nella seconda parte l'Inter è venuta fuori. Le aspettavate questo atteggiamento da parte del Benfica? Grazie. Benfica è una squadra di qualità molto molto forte, però ha trovato un Inter davanti difficile da affrontare, difficile da giocare, quindi mi soffermerei più a parlare della prestazione dell'Inter che la non prestazione del Benfica. Il Benfica è una squadra che in ogni momento ti può mettere in difficoltà. Sappiamo che siamo vantaggiati per il ritorno, ma nulla è precluso, quindi dovremmo fare, dovremmo ripetere la gara che abbiamo fatto qui a Lisbona oppure a Milano. Prego. Ciao, mister. Volevo chiederti se hai avuto questa sensazione. Quando l'Inter ha iniziato a giocare aveva forse un po' di timidezza iniziale, come a pensare un po' al passato e alla possibilità che da un momento all'altro può succedere qualsiasi cosa, però quello che aveva chiesto si è realizzato, avete giocato insieme e quando poi l'Inter ha fatto l'1-0 è cambiato tutto, è cambiato il gioco, è cambiata la serenità, l'Inter ha giocato con più tranquillità. Sì, però sono soddisfatto anche del primo tempo, perché venire a giocare in questo stadio contro una squadra così forte, in un ambiente così non è semplice, la squadra ha avuto grandissima personalità fin dall'inizio, al primo tempo abbiamo creato tante situazioni che potevano già andare meglio, poi chiaramente il gol ci ha fatto andare ancora meglio, ho fatto tre cambi contemporaneamente, non dimentichiamo che è la quarta partita in dieci giorni, la terza in trasferta in sei, molti giocatori venivano già da due partite con le nazionali, in questo calendario che è quasi impossibile, però siamo l'Inter e in questi due anni non abbiamo lasciato indietro mai nulla, da Champions, Coppa Italia, Supercoppa, vogliamo essere sempre presenti, sappiamo che ci sono delle difficoltà oggettive per la stanchezza, però ho cercato di alternare molto, anche al sessantesimo ho fatto tre cambi, che vincendo chiaramente poi con un altro risultato, saremmo stati domani ad ascoltare altri giudizi, però non mi interessa, ho guardato per il bene della squadra, in quel momento secondo me avevamo bisogno di forze fresche e i tre che sono usciti avevano fatto un grandissimo lavoro. Prego. Ciao mister, buonasera. Ciao. Hai parlato della soddisfazione per la prova della squadra, ma a livello personale cosa vuol dire fare un passo di questo tipo, soprattutto dopo le critiche che sono arrivate negli ultimi giorni? Ma a quelle sono abituato, però non c'è problema, fa parte del mestiere, l'importante è che ho queste risposte dei miei giocatori, ma avevo avuto risposta nell'ultima settimana, nelle tre partite dove non c'era stata vittoria, devo essere sincero che nonostante quello che si sentiva e si diceva, ero molto sereno e tranquillo perché a volte bisogna essere lucidi, essere forti, cercare di lasciare in disparte un attimo il risultato e vedere quello che la squadra aveva creato nelle ultime tre partite. E penso che lo abbiate visto anche voi. L'ultima. Buonasera, ministro. A proposito di critiche, uno dei giocatori più criticati era stato Lukaku, oggi ha risposto presente. Quanto è importante per l'uomo e per il giocatore questo gol? E poi mi conceda di chiudere con una battuta, ha fatto la stessa esultanza di Torino, ma stavolta non è stato munito. Ma quello sappiamo, insomma, se ne è parlato tanto, lui ha quel modo di esultare e penso che sia stato giusto questa sera guardare e non intervenire nella sua esultanza. Gli attaccanti Lautaro e Dzeko hanno fatto per 65 minuti un grandissimo lavoro, Correa e Lukaku hanno fatto altrettanto. Quindi in questo modo di giocare i nostri attaccanti sono fondamentali, non li ho mai avuti tutto l'anno a disposizione e quindi adesso che ho la fortuna di averle cerco sempre di impiegarli tutti e quattro perché meritano e si impegnano per giocare partite di questo livello. Grazie, buonasera. Grazie. Grazie a tutti.